Sabato 15 maggio apre ufficialmente un nuovo punto vaccinale in Valsesia. Si tratta del centro voluto da Ascom Vercelli in collaborazione con Asl e Biverbanca e che sarà ubicato nel fabbricato adiacente al bullying di Serravalle-Sesia. Questo centro avrà a disposizione nove postazioni che possono arrivare a somministrare mille dosi al giorno. Per l'occasione abbiamo intervistato Giuseppe Valdani di Ascom che si è occupato dell'allestimento del centro vaccinale. Presentiamo questo centro vaccinale in collaborazione con l'Asl, Ascom, i comuni di Serravalle e di Borgosesia. Abbiamo fatto questo allestimento. Il capannone dove viene fatto questo centro ha una grandezza di 800 metri quadri. Il punto è formato da dieci postazioni di cui nove adatte alla vaccinazione. Ascom ha subito aderito a questa iniziativa in quanto ritiene che un centro così importante che arriverà a fare circa mille vaccini al giorno. In questo senso aiuta sia la popolazione che il commercio. Nell'intento di Ascom è far sì che la Valsesia diventi al più presto possibile una zona free covid. Abbiamo intervistato anche il sindaco di Serravalle-Sesia, Massimo Basso. Come sindaco esprimo una grandissima soddisfazione per la realizzazione di questo punto vaccinale alle mie spalle. Si è stati contattati in prima battuta dall'Associazione Ascom, successivamente dal dottor Penna della direzione sanitaria vercellese. Poi ci siamo attivati anche noi come comune con le nostre strutture unitamente a un lavoro veramente ben condotto e ringrazio tutti coloro che hanno profuso il massimo impegno per ottenere questa importantissima struttura. E la logistica è sicuramente vincente perché ci troviamo a un crocevia vicino alla provincia di Novara, vicino a Gattinara. Ampi spazi di parcheggio che sono stati messi a disposizione dalla proprietà di Acente Buli, che ringrazio. Quindi siamo veramente soddisfatti. Un gran bel lavoro per affrontare ovviamente un'emergenza sanitaria che vogliamo tutti cercare di eliminare al più presto. E questa struttura va in tale direzione. In collaborazione con l'Ascom, con l'Asri Vercelli, con la Biver Banca, col comune di Serravale, il comune di Borgossese, alla famiglia Ambrogione e il bullying di Serravale, abbiamo ceduto questo capanone a fianco al bullying di Serravale per la vaccinazione contro il Covid-19 e speriamo che sia utile nell'intento di confingere il virus il più presto possibile e poter tornare alla vita normale che a tutti noi piace tanto. Il capanone è indipendente, quindi appena si allenteranno le misure di restrizione il bullying potrà aprire normalmente.